Festa della trasfigurazione di nostro Signore Gesù Cristo. In questa festa noi celebriamo un anticipo della nostra umanità divinizzata. Cosa vogliamo dire? È la festa della nostra umanità ritrovata in tutta la sua bellezza, persa a causa del peccato antico. Come dice il testo del Vangelo, Gesù decide di portare in disparte tre dei Suoi discepoli. Il primo messaggio che c'è in questa annotazione è che se vogliamo riscoprire la nostra più profonda e autentica umanità, se vogliamo cioè ritrovare la nostra vera bellezza perché Dio che è bellezza non può che creare bellezza nella vita. Dobbiamo decidere di lasciarci portare da Lui, dobbiamo fidarci di Lui, abbiamo il bisogno di trovare il tempo di stare in disparte con Lui perché solo nella preghiera che sostanzialmente è un conversare con il Signore. Noi rientriamo in noi stessi e possiamo vedere con gli occhi del cuore l'invisibile, ovvero come dice San Paolo Apostolo nella seconda lettera ai Corinzi, veder risplendere la conoscenza della gloria divina che rifulge sul volto di Cristo, perché il centro della vita cristiana è la conoscenza reale e progressiva di nostro Signore Gesù Cristo. Se davvero viviamo in questo dinamismo di conoscenza allora avverrà quanto poi Paolo aggiunge sempre nella seconda lettera ai Corinzi dicendo che avviso scoperto riflettendo come in uno specchio la gloria del Signore noi veniamo trasformati in quella medesima immagine di gloria in gloria secondo l'azione dello Spirito del Signore e dunque questo significa che quella visione di tutta la bellezza di Gesù nella sua divino umanità donata solo per qualche istante a Pietro, Giacomo e Giovanni è un dono che Dio vuole fare a tutti e per tutta l'eternità. Noi di fronte alla visione di qualcosa di bello diciamo che è bello. Stando poi alla presenza di qualcosa di bello l'uomo sta bene con se stesso, sta bene con la natura e con gli altri e vorrebbe istintivamente prolungare nello spazio e nel tempo questo stato d'animo e normalmente per prolungarlo pensa che debba fare qualcosa come dice Pietro davanti a quella visione Signore è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne. Questo proposito è qualcosa di primordiale, di istintivo ma Dio indica qualcos'altro. Versetto 5. Questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto, ascoltatelo. Notate bene la voce di Dio interviene mentre Pietro dice il Vangelo stava ancora parlando. La strada per entrare nella contemplazione del volto di Dio in Gesù Cristo dunque non è quella del parlare o del fare ma quella prima di tutto dell'ascoltare ovvero del pregare perché una vera preghiera nasce sempre dall'ascolto del parlare di Dio non che l'operare o il parlare umano non serva a niente no non vogliamo dire questo ma vi rammento quello che successe un giorno dopo un invito a casa a cena o a pranzo non si sa dei suoi amici Lazzaro Marta e Maria. Vi ricordate il dolce rimprovero di Gesù a Marta e Maria che diceva il Vangelo di Luca seduta ai piedi del Signore ascoltava la sua parola che invece fu difesa dal Maestro che disse c'è una sola cosa di cui c'è bisogno e Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta. La voce di Dio che proviene da quella lube luminosa atterrisce cioè butta a terra dalla paura quindi nel senso più stretto della parola i tre discepoli quando noi ci accorgiamo di essere alla presenza di Dio se veramente ci sentiamo tali avvertiamo subito la nostra verità siamo piccoli siamo fatti di terra siamo fragili come la terra i nostri occhi se Dio non ci parla si ricurvano guardano solo per terra sono curvi su noi stessi e incapaci di guardare in alto ma Dio in Gesù Cristo si è avvicinato come dice il versetto 7 si avvicinò li toccò si è avvicinato ad ogni uomo per toccarlo e digli alzatevi non temete cosa però sia stata la trasfigurazione di Gesù è difficile esprimerlo per l'evangelista Matteo che non ha trovato altre parole che paragonare il suo volto al sole e le sue vesti alla luce naturale come pure per i tre apostoli che hanno assistito e poi tramandato secondo gli ordini del Signore e anche per chi come oggi commenta il Vangelo come me non è dato trasmettere esattamente questa esperienza ma quello che appare chiaro e che deve essere chiaro soprattutto a noi credenti e che è la parola di Dio il principio che dà forma e bellezza al nostro corpo chi ascolta la sua parola diventa come Gesù perché accoglie quel seme che genera secondo la sua specie cioè la natura divina andate a vedere la prima lettera di Pietro al capitolo primo che è un bellissimo insegnamento la bellissima catechesi su questo tema la nostra trasfigurazione allora comincia quando invece di pensare e ascoltare noi stessi cominciamo ad ascoltare e pensare a lui perché la nostra trasfigurazione è un'opera di Dio il quale agisce in noi quanto più gli diamo autorità e libertà sulla nostra vita e significativamente Matteo colloca questo episodio della vita di Gesù come dice al proprio all'inizio dopo sei giorni cioè siamo al settimo giorno un'indicazione temporale di alto significato teologico che vuol dire che il fine della creazione non è la sua fine il suo destino non è la sfigurazione creata dal peccato e dalla morte ma la sua trasfigurazione non solo noi ma tutto il creato è destinato ad assumere la forma del figlio di Dio per mezzo del quale tutto è stato fatto è la forma dell'amore capace di cambiare ogni storia segnata dal peccato dunque solo in Dio la nostra vita è bella è bello esserci qui sulla terra come dice Pietro a nome di tutti ma altrove dove Dio è messo alla porta sulla terra ed è rifiutato la vita diventa brutta oppressiva e senza senso e come possiamo vedere con i nostri occhi in balia dei capricci egoistici dell'uomo buona festa della trasfigurazione a tutti